buonasera scusate è qua che vendono i biglietti stasera no 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 per il 18 novembre lo spettacolo dei tarli alle ore 21 venerdì vi siete un po' anticipato no no quale anticipato guarda l'altra volta mi sono un po' attardato ma voi ci credete non l'ho trovato a posto tutto esaurito cinque giorni prima gli amici miei dentro sono rimasto fuori buonasera avrei bisogno di quattro biglietti stasera no no il 18 novembre lo spettacolo dei tarli alle 21 scusate la volta c'ero prima io scusate ragazzi signori me la vedo io venerdì 18 novembre i tarli ore 21 a sante metrio e se la musica è buona c'è la facciamo a portà c'è stringhiamo canzone e tirammo a campà e cammina cammina e chiediamo a trovare la chitarra e oltre